Sì come che pagare il prossimo euro? Perchè una volta può anche succedere, però ti fa succedere per esempio se ti vedi un giorno solo, ma è impossibile. Certo, una cosa migliore è il busto che uno passa e che vuole fare. Perché se non ti vedi un busto che stai guardando in base. Certo, un'altra cosa migliore è un'altra cosa migliore. Certo, un'altra cosa migliore è un'altra cosa migliore è un'altra cosa migliore. Certo, un'altra cosa migliore è un'altra cosa migliore. Un'altra cosa migliore è un'altra cosa migliore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.